salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi due di voi potranno portarsi a casa degli auricolari della xiaomi i mi redmi bugs 3 questi auricolari messi a disposizione per questo giveaway da eca che vi invierà direttamente a casa vostra quindi sarà direttamente lo store online eca store di cui ho già parlato qua sul canale quando ho recensito lei lambernic perché comunque questa console da gaming portatile arriva proprio da questo store e anche questo smartwatch che ho al polso che ovviamente sto ancora testando quindi lo vedrete prossimamente come recensione qua sul canale lo potete trovare sullo store eca ma perché per questo giveaway eca ha deciso di dare degli auricolari della xiaomi perché in questo momento sueca c'è il mi festival cos'è un festival dedicato ai prodotti xiaomi che fino al 10 di aprile mette in promozione praticamente tutti i prodotti xiaomi quindi c'è veramente di tutto perché come sapete xiaomi questa azienda cinese produce di tutto dagli orologi agli smartphone ai trapani agli spazzolini da denti cioè veramente xiaomi produce di tutto e in questo mi festival praticamente tutti i prodotti xiaomi sono scontati e in più oltre ad avere i prezzi scontati c'è la spedizione gratuita e ancora in più a tutto questo inserendo il mio coupon sconto mezzo 10 avrete un ulteriore sconto di 10 euro sull'acquisto se l'acquisto è superiore ai 29 euro quindi vi lascio qua sotto in descrizione il link per accedere al mi festival e il coupon sconto da inserire per avere questi 10 euro di sconto oltre alle spese di spedizione gratuite e i prezzi già scontati ma quindi torniamo a quello che è il giveaway offerto da eca eca sarà direttamente lei a inviarvi gli auricolari a casa quando io gli comunicherò l'indirizzo di spedizione dei due partecipanti che hanno vinto questi auricolari ma come fate ragazzi a vincere questi auricolari è semplicissimo basterà scrivere qua sotto un commento un commento simpatico con una rima eca questo è il massimo che riuscite a pensare la mia mente a livello di giveaway quindi ragazzi i due commenti più simpatici che conterranno una rima eca verranno scelti da me poi vi contatterò vi invierete le vostre credenziali per la spedizione che girerò ad eca che vi invierà questi auricolari direttamente a casa vostra ovviamente i commenti accettati saranno solo fino al 10 di aprile perché questo mi festival dura fino al 10 di aprile quindi avete ancora qualche giorno per scrivere i commenti qua sotto e come ho detto devono essere simpatici e contenere una rima eca quindi ragazzi spero che questo mio video in cui due di voi potranno portarsi a casa degli auricolari mi redmi bugs 3 vi sia piaciuto sia stato utile sia stato interessante se è così lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram porto tante novità spoiler di quello che porto qua sul canale anteprime davvero tantissime cose arrivano su instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi coupon sconto riguardante il mondo della tecnologia e i droni quindi tantissimi prodotti ritrovate lì in offerta con il coupon sconto dedicati ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi anche un video un volo una recensione un testo un tutorial o novità ciao e buon commento in rima a tutti